Gentili telespettatori, buona giornata. Vi ricordate l'ex sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ve lo ricordate? Il sindaco rosso di Lampedusa che ce l'aveva con Salvini, che attaccava il governo. E' quel Totò Martello lì, quell'ex sindaco rosso pro migranti, indagato dalla procura per diverse cose. Eh sì, avete visto che di solito non c'è colore politico quando si parla di queste cose. E c'è un'inchiesta pesante sul sindaco eroe di Lampedusa, Totò Martello. E sono delle indagini, la procura di Agrigento lo ha indagato assieme ad altre 25 persone, compresa la sua famiglia, per una vicenda di appalti legati al rifacimento delle fogne nell'isola. Quello che era così il paladino della sinistra immigrazionista e attaccava il leader della Lega alle sue politiche contro gli sbarchi, tra il 2019 e il 2021, trovava anche il tempo per darsi da fare in altre cose, dalle indagini, dice la ricostruzione della magistratura inquirente. I reati dei quali questo gruppo di persone lampedusane sarà chiamato a rispondere, sono pesanti e sono tanti. Allora, primo reato contestato dalla magistratura. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Concussione. Peculato. Abuso d'ufficio. Beh, si sono messi insieme, quello che dice la procura Agrigentina, per aggiudicarsi appalti anche tra parenti. Il fratello, due nipoti, la cognata. Nelle ultime ore è giunta a destinazione la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini nei confronti dei dipendenti comunali, imprenditori e anche ex amministratori della maggiore delle isole pelagie. Il nome più vistoso è proprio quello di Salvatore Martello, detto Totò. Voi sapete che a sinistra hanno sempre i nomignoli, no? Elli, Rosi, Totò. E così è proprio quello dell'ex primo ministro cittadino Salvatore Martello insieme all'ex vice sindaco Salvatore Prestipino e a due dirigenti comunali. Le rivicende risalgono in quegli anni, tra il 2019 e il 2021. Manutenzione, appalto, manutenzione rete fognaria di Lampedusa. I lavori affidati in subappalto a imprese riconducibili alla famiglia di Martello e all'ex primo cittadino, al vice anche, nonostante i lavori fossero no, al vice no, a Totò Martello, primo cittadino. Nonostante i lavori fossero stati affidati ad una ditta di Messina e qui starà il fatto criminoso da verificare. È vero o no che la ditta appaltatrice era quella di Messina? E perché i lavori sono finiti altrove? Ci furono pressioni da Lampedusa? Bene. Sono convinti nella procura che, anche se Martello ne dice di tutti i colori, esattamente come quando faceva quando il Viminale lo richiamava a fare il suo dovere, la procura agrigentina dice che mi pare abbia preso un abbaglio sostiene che io abbia affidato lavori ai miei parenti quando il compito del sindaco non è fare gare e dare affidamenti ma dare l'indirizzo politico. Le determine le fanno i dirigenti. Si parla di determine di 1.000 euro o 500 euro che sono sempre dirigenziali. Dimostrerò nelle sedi opportune qual è l'abbaglio che ha preso la procura nei miei confronti e della mia famiglia. I miei familiari non hanno mai avuto rapporti con l'amministrazione di Lampedusa. Beh, voi sapete che la miglior difesa è l'attacco. E questo me ne sono accorto anch'io. Quando accusi una persona, quello per difendersi spara bugie e cerca di ribaltare la cosa. Sono comportamenti umani di basso livello, di solito. Adesso qui non lo so, io sto parlando di mie esperienze personali. Qui voi sapete che tra l'accusa e poi la condanna ne passa. Molte volte l'accusa finisce in un nulla di fatto e dopo anni si dice ma il fatto non sussiste, ci siamo sbagliati, arrivederci e grazie. Se intanto hai preso una persona e l'hai distrutta perché già le indagini, qui le indagini poi si sono anche concluse quindi vedremo se nei prossimi giorni ci saranno anche degli avvisi di garanzia nel senso che ci potrebbero essere avvisi di garanzia o processi che si aprono oppure ci può essere anche la conclusione che il fatto non sussiste e si chiude tutto. Vedremo. Intanto Libero Quotidiano ha riportato appunto ha riportato questo Comunque gli indagati attraverso i legali di fiducia hanno 20 giorni per chiedere di essere interrogati o presentare memorie difensive per provare a evitare la richiesta di rinvio a giudizio e non sarà facile vista la determinazione dei magistrati e da tempo nel mirino di chi indaga l'appalto per i lavori di manutenzione della rete fognaria della maggiore isola delle pelage e delle stazioni di sollevamento purtroppo quando ci sono di mezzo dei soldi molti credono sempre di riuscire a farla franca e poi invece vengono beccati molti dicono è passato del tempo nessuno starà pensando a quello che ho fatto e poi arrivano i rinvii a giudizio insomma direi che comportarsi onestamente è sempre la migliore delle cose bene io vi ringrazio per avermi ascoltato questo era l'ultimo video di oggi primo gennaio 2024 ci sentiremo poi per la rassegna stampa credo che il 2 di gennaio ci siano i giornali non c'erano oggi primo gennaio ma ci saranno domani mattina quindi ci vediamo con la rassegna stampa come al solito per chi vuole seguirla intanto buon buon anno nuovo a tutti quanti e speriamo sia un anno positivo grazie nuovamente ci vediamo presto ricordatevi che c'è anche teleitalia seconda rete e poi i video non sono solo in teleitalia seconda rete ma sono anche condivisi su altri social come twitter oggi ci sono tutti i video che potete da lì condividere con chi volete grazie a tutti nuovamente a presto